amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuoto vista da vicino abbiamo il piacere di avere oggi con noi il difensore del telemar palermo davide occhione ciao davide benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito ciao andrea grazie a te davide partiamo da quello che è stato l'ultimo impegno agonistico la partita di sabato scorso contro la pallannuoto trieste che poteva valere quel match point per la qualificazione alla alla semifinale scudetto è arrivato invece un pareggio per 10 a 10 che ha rinviato i verdetti e rimesso in gara le vostre concorrenti quale eredità vi ha lasciato la partita contro la formazione giuliana sicuramente ci ha lasciato un po di amarezza per non aver sfruttato questo match point come l'hai definito tu ma sappiamo comunque di aver disputato un'ottima gara che affrontavamo un'ottima squadra come il trieste che ha degli ottimi elementi è comunque come detto tu per noi non era l'ultima spiaggia abbiamo semplicemente rinviato la possibilità di approdare la final for scudetto che per palermo sarebbe un risultato storico quindi abbiamo ricominciato subito a lavorare con gu e per ottenere questo risultato che cosa vi è mancato per riuscire a chiudere la partita è più un demerito vostro eccola rendo ancora più chiara è più un demerito vostro oppure è stata proprio la reazione degli ospiti che hanno meritato il pareggio il ts sicuramente ha avuto un'ottima reazione non ha mollato mai durante la partita però se devo essere sincero dal gioco che abbiamo sviluppato penso sia un po magari un demerito nostro ma semplicemente sono stati poco incisivi sotto porta negli ultimi minuti della partita nei minuti finali perché comunque le occasioni le abbiamo creato e abbiamo giocato veramente bene secondo me sono stati semplicemente poco incisivi poco precisi quali sono hai detto che già vi siete rimessi al lavoro con il sotto la guida del vostro allenatore gli aspetti del gioco su cui la squadra può e deve registrare i progressi più significativi anche perché si avvicinano poi appuntamenti importanti ricordo che nel giro di pochi giorni vi troverete di fronte l'invincibile armata della pro recco poi arriverà l'ultimo appuntamento di campionato e se tutto andrà secondo quello che il piano diciamo della società dovreste accingervi a disputare le semifinali anzi usiamo il condizionale va potreste disputare le semifinali scudetto quindi dov'è che la squadra deve insistere nel lavoro quotidiano per aumentare il suo rendimento ma penso che noi siamo un'ottima squadra siamo molto uniti fra i noi e lavoriamo tantissimo dal primo giorno che sarebbe il 24 agosto da quando abbiamo iniziato la preparazione e da quel giorno ad ora siamo migliorati secondo me molto anche se dobbiamo migliorare ancora tanto su tutti praticamente su tutti i punti di vista perché comunque non si smetteva di migliorare Gu è molto molto perfezionista cerca sempre la perfezione in tutto ci ha impostato ormai il suo metodo di gioco grazie a questo siamo riusciti a ottenere questi risultati ottimi che sinceramente all'inizio stagione non ci aspettavamo però ancora c'è tanto da migliorare stiamo lavorando il più possibile al massimo delle nostre potenzialità per raggiungere ancora il prossimo obiettivo hai nel tuo palmarès il titolo di campione d'europa di categoria con l'under 17 nell'estate del 2019 ti chiedo quanto è cresciuto Davide Occhione in questi mesi sotto la guida di Marco Gubaldinetti quanti benefici hai trovato nel tuo percorso? penso di essere cambiato veramente tanto a livello palannotistico come giocatore Gu mi ha praticamente rivoluzionato il mio modo di pensare in positivo assolutamente e vedere la palannoto la vedo da un altro punto di vista mi ha cambiato molto a livello tecnico tattico penso di essere cresciuto veramente tanto soprattutto dal punto di vista mentale Gu mi ha cambiato veramente tanto dal punto di vista mentale mi ha fatto maturare devo tante cose a lui dicevo prima tornerete in acqua con due appuntamenti io li definirei da ebrezza da montagne russe perché in pochi giorni si apre la quinta giornata del preliminare round scudetto che poi per la semifinale di Coppa Italia andrete a cozzare contro la Prorecco che ha vinto, giova a ricordarlo, il girone di Champions vincendo dieci partite che cosa vi aspettate da questo doppio incrocio e quanto potrà essere utile per la vostra crescita di squadra? per noi penso sia un'opportunità giocare due partite con una squadra di questa elevatura perché secondo me è una delle squadre migliori che c'è in Europa se non la migliore sinceramente sarà un test per noi per vedere a che punto siamo a livello tecnico tattico e di preparazione la stiamo preparando al meglio come tutte le altre partite insieme a Gu proveremo a fare la nostra partita, andremo lì sereni, consapevoli di affrontare una squadra veramente fortissima ma proveremo a metterle in difficoltà il più possibile Quale significato assumerebbe per il progetto che il club ha barato nella scorsa estate la possibilità concreta di terminare il campionato nelle prime quattro? ricordiamo che la società prevedeva questo traguardo ma non era la priorità di quest'annata ma innanzitutto faccio una premessa che già dove siamo arrivati ora inizionando noi non ce l'aspettavamo infatti secondo me raggiungere la Final Four Scudetto sarebbe un risultato come ho detto in precedenza storico per noi squadra, per la società e per la città di Palermo la società ci sta dando tutto per lavorare nelle migliori condizioni, è sempre presente come ben sai inizio anno abbiamo avuto un periodo molto difficile tra Covid e comunque infortuni quindi la società è sempre stata presente per metterci al meglio delle condizioni noi stiamo lavorando come ho detto già prima al meglio per raggiungere questo obiettivo ma se devo essere sincero noi inizionando non pensavo nemmeno di arrivare dove siamo arrivati sinora perché comunque siamo già in Final Four di Coppa Italia, siamo a un passo dalla Final Four Scudetto quindi per noi già è un grandissimo risultato dove siamo adesso se riuscissimo ad arrivare in Final Four Scudetto sarebbe un risultato storico per la città di Palermo e noi saremmo veramente orgogliosi, l'unica cosa che ci dispiace è non poterlo festeggiare con il nostro pubblico visto che le condizioni non lo permettono Sei giovane ma sei uno dei componenti del nucleo palermitano della squadra, cresciuto nel vivaio del Telimar che cosa significa per te da palermitano avere l'onore di rappresentare la squadra della tua città in una stagione in cui si lotta per grandi traguardi e con un progetto che vuole continuare a crescere quanto senti ancora più forte l'appartenenza alla tua città? L'appartenenza alla mia città è fortissima, per me è un onore e un piacere rappresentarla in questo campionato e spero di poterlo fare ancora a lungo penso che sia veramente una cosa molto bella e importante quella che stiamo facendo non è una cosa che capita molto spesso, infatti nella storia della palomoto palermitana non era mai successa di arrivare così in alto speriamo di arrivare il più in alto possibile, spero di farlo con i miei compagni e con questo gruppo fantastico speriamo sia un trampolino di lancio e non di arrivo Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda nel corso della stagione avete avuto modo di affrontare sia la Pro Recco, che ribadiamolo, riaffronterete tra altre due volte in pochi giorni che la N Brescia chiedo anche a un giovane pallannotista l'opinione su quella che è una domanda quasi di carattere di routine ormai diventata secondo te in una sempre più probabile finale Scudetto si è ridotto il gap del Brescia rispetto ai Liguri oppure la formazione allenata da Gabi Hernandez è ancora nettamente la favorita per il successo finale? Secondo me il Recco è sempre la favorita, ma non nettamente quest'anno secondo me il Brescia quest'anno sta sviluppando un ottimo gioco e si è visto soprattutto nelle partite di Champions sono un'ottima squadra, si sono rafforzati, hanno degli ottimi stranieri soprattutto una rosa veramente completa e potrà dare veramente filo da torcere al Recco secondo me vedremo delle ottime partite, delle veramente gran belle partite saranno secondo me tiratissime e si decideranno tutte agli ultimi minuti va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Davide Occhione per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Davide, grazie un bacio, grazie a te